E' stato inaugurato questa mattina a Cagliari il pronto soccorso dell'ospedale Santissima Trinità dopo il completamento della prima trans dei lavori disposti per il potenziamento del reparto. E' di poco più di 33.000 il numero degli accessi registrati nel 2019, l'ultimo dato disponibile prima della pandemia e quindi della destinazione del presidio ospedale Covid. I lavori, durati circa un mese, hanno portato all'ampliamento degli spazi della sala d'attesa, spazi più che raddoppiati rispetto alla configurazione iniziale, e il raddoppio dei posti letto nell'area dell'osservazione breve intensiva OBI. Al momento il pronto soccorso riaprirà solo per l'accesso ai pazienti positivi al Covid. I lavori, ha detto l'assessore regionale della sanità Mario Nieddu, all'inaugurazione del reparto rinnovato, sono stati realizzati in tempi rapidi con un miglioramento generale degli ambienti a beneficio del comfort e della fruibilità degli spazi. L'aumento dei contagi e dei ricoveri a causa del Covid, in particolare in area non critica, ci costringe però a mantenere l'impostazione organizzativa dei presidi che sino ad ora ci ha consentito di gestire al meglio la pandemia. Oggi il pronto soccorso del Santissima Trinità riapre esclusivamente per i pazienti Covid, ma non appena il quadro epidemiologico lo consentirà, potremo restituire alla città un servizio migliore sotto ogni punto di vista. L'assessore della sanità infine si è soffermato sulla situazione dei contagi nell'isola. I picchi che stiamo registrando, ha detto, non sono al momento di livello tale da richiedere delle misure ancora più restrittive, come sta avvenendo invece in altre regioni italiane. Continuiamo comunque a monitorare il quadro generale con la massima attenzione. Non dobbiamo assolutamente sottovalutare i rischi dovuti alla diffusione delle varianti. In queste festività, ha concluso Mario Nieddu, l'imperativo resta non abbassare la guardia e mantenere rispetto di tutte le misure anticontagio, dall'uso della mascherina all'igiene delle mani. Buone prassi che insieme ai vaccini rappresentano l'unico strumento efficace per frenare l'avanzata del virus. Grazie. Grazie.